buonasera stavo cercando l'inquadratura migliore perché è buio naturalmente sono in macchina e questo video lo faccio in condizioni un pochino precari si è però un po abbassata la temperatura qui a milano perché c'è da impazzire veramente oggi abbiamo toccato quasi 38 gradi quasi 38 gradi solo da sperare che non arrivi qualche temporale devastante ma temo temo che possa succedere vabbè comunque non è questo l'argomento dei nostri video naturalmente anche se parlare del tempo insomma sono un po quei discorsi da ascensore che si fanno no dicevo non è questo l'argomento perché perché l'argomento naturalmente riparte dalla vittoria di ieri riparte da tutta una serie di considerazioni che sono state fatte e che sono andate inevitabilmente poi a toccare il tema magnanelli allegri allora la juve allenata da magnanelli o allenata da allegri ragazzi la juventus è allenata da entrambi ripeto un po il concetto che ho accennato che ho accennato questa mattina nel video fatto appunto di ritorno da udine ossia magnanelli è stata una scelta di allegri aveva avuto il giocatore a sassuolo lo stimava evidentemente tantissimo e ha deciso di averlo nello staff è la prima vera esperienza importante che fa l'ex giocatore al sassuolo che ha smesso di giocare nel 2022 ok quando ti porti qualcuno di nuovo è perché naturalmente vuoi arricchire anche un po il bagaglio di conoscenze di lavoro da svolgere sul campo eccetera ed è indubitabile che magnanelli possa aver portato delle idee lo ha detto anche chiesa lo ha detto esplicitamente no magnanelli ha dato degli input importanti al lavoro della juventus ma è altrettanto evidente che non è che magnanelli arriva dice oh benissimo adesso comando io e qua si fa così no qua si fa così lo decide allegri dopo aver ascoltato e sentito naturalmente il parere dei suoi collaboratori del suo staff quest'anno arricchito da magnanelli che ha portato degli input nuovi poi casomai la domanda che ci si può fare è ma perché non l'ha fatto allegri nei mesi precedenti non l'ha fatto allegri negli anni precedenti parlo degli ultimi due anni di juve perché secondo me la juve dei primi cinque anni di allegri non giocava male aveva anche degli interpreti diversi ma questo ci siamo detti mille volte cioè aveva dei giorni guardate il centrocampo che c'era allora guardate l'attacco che c'era allora vi faccio un nome su tutti tevez per esempio giusto per città ne uno gli faccio i nomi del centrocampo il pogba di allora pirlo insomma vidal marchisio ragazzi stiamo parlando di gente cresciuta con conte e della quale allegri ha potuto beneficiare a sua volta arrivando il primo anno adesso forse avrò sbagliato con qualcuno però comunque la solidità di quella squadra c'era il trio dietro barzagli bonucci chiellini davanti a buffon cioè c'era tutta un'altra situazione no chiaramente allegri non ha ritenuto non avrebbe ritenuto di operare in questa maniera negli anni addietro i motivi li conoscerà lui che la juve aver giocato male ce lo siamo detti mille volte mille volte e lo dico anch'io e lo ripeto anch'io che la juventus che si vedeva l'anno scorso non appagava sicuramente l'occhio l'anno scorso poi negli ultimi sei mesi sapete benissimo quello che è successo ed è anche difficile giocare con la testa da un'altra parte ciò non toglie che nella prima parte della stagione l'anno scorso che vi giocasse male e fosse stata buttata fuori meritatamente dalla champions e nessuno questo l'ha mai negato però quest'anno è il frutto di un lavoro di equip quello che si sta vedendo è il frutto di un lavoro di chi poi capisco anche che come dire la partita di ieri possa essere in parte sminuita innanzitutto da chi ha una visione ormai talebana orientata nei confronti della juve chiamata anche allegrentus per cui se vince perché aveva contro l'udinese se ha fatto vedere certe cose perché aveva contro l'udinese anzi già rimarcare il fatto che nel secondo tempo l'udinese l'ha messa sotto sì l'ha messa sotto ragazzi è vero è un difetto da correggere è vero ma è un difetto che dipende evidentemente solo dalla testa perché il primo incazzato ieri era allegri perché io ho fatto ascoltare nel servizio che andrà stasera a sport mediaset attorno alla mezzanotte un labiale di allegri che si incazza notevolmente durante il cooling break del secondo tempo e dice adesso vi riporto tutta la frase no l'insulto finale non lo dico la parolaccia finale non la dico ok è lì che parla con loro e dice stiamo girando a vuoto mancano ancora 30 minuti quindi tanto bastava un gol del lunese per rimetterla in gioco ok stiamo girando a vuoto sta urlando come un pazzo mancano ancora 30 minuti e vi do le iniziali pt della della dell'insulto della frasaccia che poi ha concluso la sua il suo comizio ok quindi era primo lui ad arrabbiarsi di questa situazione ieri ok ciò non toglie che sia pure con tutte le dovute cautele sia pure con tutta la dovuta prudenza non si può non parlare di una juve positiva ieri cioè io capisco posso capire va bene certa coerenza da partito preso eccetera ma ieri la juve nel primo tempo ha sicuramente ha pagato anche l'occhio non solo il risultato ha pagato anche l'occhio ha mostrato un temperamento una coesione uno spirito una determinazione e una velocità di fraseggio abbinata a tutte queste caratteristiche che sono innegabili a parte che sono convinto una cosa ragazzi che se il primo tempo non fosse finito 3 a 0 l'ho detto anche cambiaso ci sta di mollare un attimo anche se è sbagliato ma vincevamo 3 a 0 cioè se il primo tempo fosse finito faccio l'ipotesi 1 a 0 secondo me il secondo tempo non lo giocava così e a riprova di questo ci sta il fatto che già sul 2 a 0 l'anno scorso questa squadra avrebbe rimesso in gioco l'udinese qualche cavolata l'avrebbe commessa qualche distrazione ci sarebbe stata e qualche opportunità seria per l'udinese di segnare che nel primo tempo ci sarebbe stata mentre ieri non è andata così non è andata così le opportunità l'udinese le ha avute sul 3 a 0 per la juve nel secondo tempo quantomeno la stragrande maggioranza e questo è indicativo questo indicativo vuol dire che allora io ragazzi non ho mai avuto la sensazione ieri ma lo dico a livello proprio personale nel primo tempo perché poi si procede spesso per sensazioni non ho mai avuto la sensazione che l'udinese potesse segnare nel primo tempo nel secondo tempo sì qualcosa di più ma al tempo stesso mi dicevo se anche l'udinese dovesse segnare un gol questa juve o le fa il quarto o comunque il secondo non lo prende sono le percezioni che contano sono le percezioni che ti dà il campo poi sono d'accordo con voi ma l'ho detto anche nel video di quest'oggi che bisogna avere molta prudenza molta cautela come mi avete scritto anche voi spendendo un luogo comune piuttosto diffuso una rondine non fa primavera vorrei che fosse primavera non un'estate così torrida va bene ok ma siamo perfettamente d'accordo su questo cioè questa ma ma ve l'ho detto anche oggi è una briciola è una briciola è una goccia nel mare aspettiamo e vediamo già c'è un test importante domenica al quale la juve contro il bogna arriva dopo una settimana in cui avrà riposato quest'oggi probabilmente riposare anche domani non lo so ma ci arriva ci arriva lavorando tutta la settimana con quell'obiettivo lì e i giocatori che volevano giocare da champions e questo sarà un po forse il tema di domani i giocatori i quali mancava così tanto la champions adesso vogliono restare lì motivo ci sarà no iscrivetevi al canale ci vediamo domani ciao ragazzi